Sono Alessandra Recchia e sono ricercatrice di biologia molecolare all'Università di Modena da più di dieci anni, dal 2005. Mi sono sempre occupata di malattie rare, di terapia genica, ma dal punto di vista di biologa, quindi non ho mai traslato questo in un approccio medico. Traslare vuol dire una volta ottenuto un prodotto che funziona a stadio preclinico, portarlo veramente al paziente. Conosco vari esempi e ho visto vari sistemi in cui questo può essere traslato veramente al paziente, portato sul paziente. In che cosa consiste la tecnologia CRISPR-Case9? L'editing del genoma è un sistema di precisione che consente la correzione mirata di una particolare sequenza di DNA mutata nel nostro genoma. Per fare questo noi utilizziamo delle proteine chiamate enzimi, che sono delle endonucleasi, che sono in grado di tagliare il DNA a doppio filamento. Questo taglio che cosa fa? Scatena nella cellula dei sistemi di riparo fisiologici, che vengono comunemente sempre nelle nostre cellule. Da una parte questi sistemi di riparo sono in grado di introdurre delle piccole mutazioni puntiformi, del tutto indistinguibili dalle nostre normali mutazioni nel genoma, che però, se mirati in un gene mutato, possono spegnere l'espressione del gene mutato mantenendo solo l'espressione della coppia normale, wild type si dice. Dall'altro canto invece cosa possono scatenare? Riparare la mutazione, quindi sostituire la sequenza mutata con una sequenza normale del gene e quindi ripristinare l'espressione fisiologica del gene. Qual è il suo ruolo all'interno di questo progetto? Io sono responsabile della ricerca che viene fatta a Modena sulle cellule dei pazienti che invece sono nella banca di cellule di Bologna, che viene gestita dalla professoressa Giovanna Lattanzi. I pazienti invece vengono un po' da tutta Italia. Ci sono dei pazienti seguiti dal professor Maggi a Milano, al Gaslini di Genova, eccetera. Sotto la mia supervisione ci occuperemo della forma 1, che è dovuta appunto a delle mutazioni in emerina. Correggendola noi ripristiniamo l'espressione di emerina nelle cellule del paziente. Nell'altro caso invece la forma di tipo 2, che è la seconda forma più frequente di Emery-Dreyfus, dovuta a mutazioni a carico del gene LMNA, noi andremo a spegnere la coppia del gene mutato e quindi faremo funzionare solo la coppia del gene wild type normale. A chi è rivolta questa ricerca? È rivolta ovviamente a tutti i pazienti che hanno questa malattia genetica rara, quindi estremamente rara in Italia e nel mondo. Lo scopo è quello di fare una correzione precoce, quindi a livello, quando ancora sono bambini, quando ancora le fibre muscolari non sono perse, perché poi quando è una malattia degenerativa, quindi col tempo i muscoli e le fibre muscolari vengono danneggiate e questa terapia non le può riportare alla condizione normale. Quello che noi dobbiamo fare con questa terapia è rallentare il decorso della patologia e possibilmente anche curarlo. Quindi ovviamente il nostro scopo è fare questo per i bambini soprattutto, perché a quello stadio i bambini hanno ancora fibre muscolari sane da poter correggere. Fino a quale età possiamo intervenire? Questa è una bella domanda, direi dipende dal livello di degenerazione. Ci sono casi che ho visto tra i pazienti di Emery Dreyfus che stanno benissimo fino a 40-50 anni e dei bambini invece che a 10 anni sono già sulla sedia a rotelle. Quindi è una degenerazione progressiva ma non segue lo stesso iter. Non possiamo stabilire un'età precisa. Ci sono dei casi in cui è degenera più velocemente e dei casi che degenera meno velocemente. Quali sono le fasi della ricerca? Si parte da una fase di ricerca di laboratorio di base, in cui lo scopo è ottenere una prova di principio. Prova di principio fatta già sulle cellule del paziente, quindi siamo già in una fase abbastanza avanti. Non vogliamo fare esperimenti su linee cellulari, vogliamo già lavorare con cellule del paziente perché sappiamo che quando si passa da esperimenti più semplici a quelli più complessi si complicano sempre le cose. Quindi vogliamo già partire da un livello abbastanza alto. Vogliamo già curare le cellule del paziente in vitro, in coltura e per questo ci siamo dati due anni di tempo. Successivamente sarà appunto, come dicevo prima, traslare al paziente. Per traslare questo al paziente in questa patologia, dove quindi non parliamo di trapianto di cellule staminali, non parliamo di trapianto di midollo osseo, ma è una terapia, ovviamente i muscoli si possono trattare solo in vivo, con delle trattamenti direttamente in vivo. Noi non possiamo trapiantare un muscolo e non possiamo raggiungere un muscolo chirurgicamente. Quindi lo scopo è di fare un trattamento in vivo, direttamente nel paziente, per via sistemica. Dopo questi due anni, quali differenze ci saranno per i pazienti? Allora, le differenze saranno enormi, nel senso che proprio bisogna pensare in un altro modo. La cosa esce da un laboratorio, deve essere supportata moltissimo, non solo dal punto di vista economico, ma anche di regolamentazione. Ci deve essere un'associazione pazienti per il reclutamento dei pazienti che sono adatti alla terapia. Come dicevo prima, un paziente che ha tutti i muscoli degenerati, purtroppo, è un paziente su cui non si potrà fare niente. Bisogna intervenire prima. Dal punto di vista dei tempi, anche questo è lungo, generalmente. Conosco trial che hanno impiegato più di 15 anni per arrivare ad una fase operativa sull'uomo, ma con i tempi che stanno andando, esistono già delle sperimentazioni cliniche di fase 1-2 con il gene editing mediante da CRISPR-Cas9. Questa tecnologia avrà ripercussioni anche su altre patologie? Assolutamente sì. Appunto, l'approccio che noi ci prefiggiamo di mettere a punto può essere applicato sia ad altre patologie muscolari e non per niente, diciamo, la patologia più simile all'Hemery-Dreyfus è la Duchenne. E per la Duchenne, proprio, sono già più avanti con delle sperimentazioni di fase 1-2, sempre con una terapia di gene editing in vivo. Come funziona il coordinamento nazionale tra gli istituti di ricerca? Ormai da tanti anni la biologia e la ricerca non si fa più a porte chiuse. È una cosa ormai vecchissima che già, insomma, quando ho cominciato io non si faceva, si avevano contatti già con tutto il mondo da allora, veramente più di 20 anni fa. Oggi ancora, ancora di più. Quindi è assolutamente normale per noi collaborare con centri di Bologna che sono al di là, veramente, dietro casa, ma anche a livello europeo o anche a livello internazionale. Ho tantissime collaborazioni a livello europeo con cui scambiamo meeting di upgrade della ricerca scientifica, scambiamo materiali, tranquillamente abbiamo un DHL biomedico, quindi facciamo viaggiare cellule congelate, incoltura, virus, plasmidi con un sistema biomedico di DHL certificato. E poi siamo abituati veramente a frequentare tantissimi meeting in cui ci ritroviamo quasi sempre fra tutti quelli che hanno, diciamo, lo stesso interesse. Cosa direbbe ad una mamma e un papà che hanno appena appreso che il figlio ha la distrofia muscolare di Emery Dreyfus? Allora, questa è veramente difficile, forse è la domanda più difficile che mi ha fatto fino adesso, di avere tanto coraggio. Anch'io sono mamma, una bambina piccola, e so quanto veramente è difficile dire a una bambina o vedere una bambina con dei difetti, con delle cose, di semplicemente vederla giocare in un modo differente. La ricerca va molto più velocemente rispetto a 20 anni fa e su questo sistema di correzione ci sono forti interessi, forti interessi non solo i nostri personali come associazione o della patologia, ma forti interessi proprio economici anche, di brevetti, quindi tutta questa ricerca va avanti molto velocemente. Nel tempo della crescita di un bimbo piccolo si possa arrivare ad avere una cura, almeno rallentare quello che è la progressione della patologia. Com'è la situazione dei finanziamenti alla ricerca in Italia? Pessimo perché i finanziamenti sono sempre molto pochi, si è perso completamente negli anni, forse 20 anni fa la situazione era leggermente migliore, adesso veramente non ce ne sono quasi, i bandi a livello nazionale sono veramente pochi, pochi avvengono nemmeno tutti gli anni, e i finanziamenti erogati sono veramente scarsissimi. Questa è una ricerca costosa, è costosa sia perché ci dobbiamo, perché è costoso proprio il materiale biologico che noi utilizziamo, ogni esperimento può costare anche 50 euro, un solo esperimento, per avere magari un piccolo dato preliminare, dopodiché per rendere questo robusto bisogna farne centinaia, quindi abbiamo costi di reagenti, costi di personale, perché purtroppo, sempre ritornando allo Stato italiano, lo Stato italiano non ci dà le forze per mantenere quelle persone che voi vedrete in laboratorio lavorare, vengono pagati da fondi di ricerca della sottoscritta, o da programmi di dottorato che sono sempre e comunque esigui, cioè non consentono di avere ogni anno un dottorando pagato dallo Stato per lavorare su questo, quindi siamo messi così, cerchiamo finanziamenti all'estero, partecipiamo a grant europei, questo ci dà la speranza di poter andare avanti.